Quando in una vasta area c'è un lento e progressivo abbassamento verticale del terreno, come uno sprofondamento, si parla di subsidenza. In Italia vi sono diverse aree interessate dalla subsidenza, come le coste e la pianura padana. È noto che la pianura della nostra regione sia soggetta a questo fenomeno. È un po' diffuso in tutte le province, con i valori più significativi nella provincia di Bologna, dove vengono rilevati, in alcuni punti, abbassamenti con una velocità di 3 cm all'anno. Nella costa Emiliano-Romagnola i tassi di subsidenza arrivano a circa 1 cm all'anno, con delle punte massime di 2. Negli ultimi 50 anni la nostra fascia costiera si è abbassata di 70 cm a Rimini e di oltre un metro da Cesenatico, al delta del Po. Ma da cosa dipende tutto questo? Questo succede per motivi geologici naturali, ma anche per colpa dell'uomo, che dagli anni 50 estrae dal sottosuolo idrocarburi e acqua. E le conseguenze? Le conseguenze più gravi le riscontriamo, ad esempio, nell'erosione delle zone costiere, nel calo dell'efficienza delle infrastrutture idrauliche, con maggiori rischi di allagamento di alcuni territori. Poi ci sono gli effetti sui canali. Il terreno trascina con sé verso il basso anche gli argini, si riduce lo spessore delle fiancate di sicurezza e aumenta la probabilità di cedimenti degli argini. Inoltre, la subsidenza favorisce l'ingresso del cuneo salino e questo causa la salinizazione delle falde acquifere profonde, per cui sono necessari interventi di difesa dall'acqua del mare. Interventi come questo. Dietro le coste di Ferrara e di Ravenna ci sono più di 100.000 ettari di terreno sotto il livello del mare a rischio. Potete quindi immaginarvi le conseguenze di questo abbassamento. Cosa c'è? Ecco perché il tema interessa tantissimo i consorzi di bonifica, che devono essere attenti alle conseguenze della subsidenza, sull'efficienza dei propri impianti idrobori e sui propri sistemi di difesa idraulica in generale. Tutto ciò comporta impegno professionale ed enormi investimenti economici. Ma i consorzi di bonifica fanno qualcosa in più. Sto parlando delle attività di irrigazione. Come vi ho detto, la subsidenza dipende anche dal prelievo di acqua sotterranea. Giusto? E allora? Se riusciamo a prelevare l'acqua dai fiumi in maniera oculata, quel tanto che basta, e soprattutto se riusciamo a distribuirla agli agricoltori ricordando loro di non sprecare neanche una goccia, ecco che eviteremo di prelevare acqua dal sottosuolo attraverso i pozzi. L'irrigazione ricompensa le falde superficiali a salvaguardia delle falde più profonde. Inoltre, l'infintrazione dell'acqua, portata dai canali, oltre a costituire un significativo aiuto alle falde superficiali, rallenta anche il degrado dell'ambiente naturale. Tutto questo però ha dei costi per l'adeguamento degli impianti alle nuove esigenze del territorio, per l'energia necessaria a farli funzionare. In questi territori, senza la bonifica, non ci sarebbero le condizioni per lo sviluppo civile ed economico, e soprattutto per l'agricoltura, quel made in Italy che rappresenta il terzo brand più conosciuto al mondo. Bravi, eh? Che mitica, la bonifica!